Bobicic ancora Queglio, stacco ed è la rete che da Lupo va al centro, bello questo passaggio Bobicic Queglio che si accentra, prova il tiro ed è Sortino che si accentra a Vanoli tenta il tiro fischiato al Conversano, l'Albatro può ripartire adesso Nelson che prova a trovare Bobicic Cagnete il portiere pugliese e c'è la rete Bobicic che forse non si avvede di questa possibilità adesso Lupo in elevazione, ottima per Conversano con una espulsione definitiva addirittura Mizzoni prova a fare spazio per i suoi va verso il centro Pola provando adesso non schierare il portiere ma Giovanni Rosso non perdona e c'è un nuovo fallo, un contropiede per il Conversano che è implacabile ha sicuramente indottrinato Nelson ma questa volta sulla linea dei sette è la rete per una frazione di secondo è rimasto quasi incredulo 19, pari, non ci si ferma che prova ad infilare che serve Lupo, poi un'altra pallone Bobicic c'è Cagnete, quello e va in fila in fila verso Rosso che però il pallone Radovicic adesso in contropiede ma